Salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e non so come mai l'ultima volta che l'avevamo salvato Era giorno e non capisco perché adesso è notte Inoltre mi sa che si è tipo buggato e non ci fa salvare o dormire Ma Guardate non ci fa neanche accendere il fuoco no è proprio buggato mi sa Cioè No non voglio questo Cioè vedete non mi fa accendere il fuoco Ah no ce lo fa Ah aspettate un attimo forse perché Eh perché non c'è l'HD ma che idiota Ok ok ragazzi abbiamo risolto Ah ok ora si che ci siamo Però il mio HD comunque non si vede ancora Perché non ci si vede la vita Non c'è da un cazzo Che brodino Ok e niente E niente ragazzi quindi aspettate un attimo Perché io voglio vedere sta cazzo di L'icone No niente Non lo so non mi mostra più la vita Vabbè andiamo così a me non è che dispiace alla fine Cioè è anche più pulita la schermata era solo per sapere Se siamo vivi o no Allora questa cosa qua guardate no Mi hanno fatto male buggata perché guardate io non posso adesso andare a mangiare quel pezzo Vedete Cioè devo abbassarmi Cioè sembro un animale Devo abbassarmi e andare lì Oppure salto Mi baggo dentro sto coso Ecco come adesso E forse mangio No aspetta Ecco Cioè guardate che roba Vabbè andiamo avanti Ah se mi sentite in modo diverso la voce perché sto registrando non col microfono esterno quello da studio Ma con il microfono incorporato delle cuffie Perché semplicemente volevo fare una prova E anche perché ecco con quel microfono li sto avendo un problemino Quello da studio perché c'ha i cavi che non vanno tanto sono un po' andati quindi devo cambiarli Allora la scorsa volta dovevamo finire la nostra zattera che è là in fondo Ma non riuscivamo a trovare Ma non riuscivamo a trovare delle corde Ci servono quattro corde Io sinceramente non so dove cazzo trovarle queste corde Proviamo a vedere Aprendo magari le valigie Se riusciamo a trovare delle corde Però mi sembra che troviamo soltanto Ecco delle bende tipo Scusami mi dispiace solo che devo mangiare Allora forse ho trovato il modo di fare esplosive allora Monete, circuito, un altro circuito No altre monete No Quindi aspetta monete e circuito vanno bene Ci serve un'altra cosa Non saprei cosa però No questo direi proprio di no Neanche bestudine Allora andiamo un po' alla ricerca di corde Se le troviamo Però davvero non so proprio dove trovarle queste corde O che riusciamo a trovare un accampamento Magari in cui c'è della gente che ha lasciato qualcosa Altrimenti perché qua dalle valigie Non riesco a trovare delle corde No fa vedere se possono No oh Si possono prendere Si no Non ci credo No che figata Che bel posto questo Chissà se ci si può fare una casa lì sopra Oh oh ferma ferma Si si può fare questa qua Si ma servono allora una corda Eh sempre queste cazze di corde E 35 pezzi di legno Però il fatto è che se non troviamo delle cazze di corde Comunque hanno aggiunto un sacco di cose Da quando ho fatto i video tipo all'inizio che avevo aperto il canale Mi ricordo che non c'era tutti questi dettagli Ah intanto abbiamo visto che Questi qua sono tipo gli obiettivi Cioè trovare Timmy penso che sia suo figlio Poi set up the fences Quindi tipo tirare su delle difese E trovare l'aeroplano scomparso dei passeggeri Ma non era quello all'inizio scusa Oh mio dio Oh mio dio Da dove? Da dove? Eccolo 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 Perché? Per quale motivo? Ma qual è il tuo problema? Oddio ma Si arrampicano sugli alberi? Ma che cazzo Ma qual è il tuo problema? Eh? Qual è il tuo fottissimo problema? Idiota Ok sta calando la sera Ragazzi voi non potete capire quanto cazzo è inquietante Cioè veramente Fa veramente paura Ok quindi niente ragazzi In questo terzo giorno Siamo riusciti a completare quasi questa struttura Che poi vorrei vedere se si riesce magari a Farci tipo una casa lì sopra E poi vorrei fare anche quella casa sull'albero Solo che mi servono sempre le corde E dovremmo fare anche una zattera E di cui abbiamo sempre bisogno di 4 corde Però se l'ho riuscito a fare questo Oddio Riuscito a fare questo Che è praticamente per tenere dentro i tronchi Magari Se ce ne servono delle scorte E ora si va a nanna Mi sono riuscito a fare questo Mi sono riuscito a fare questo E ora si vai adorare questa struttura